Buongiorno, io sono Luca Bartoletti, responsabile dell'area Innovazione e Sostenibilità del CISE. Anche quest'anno abbiamo voluto essere presenti con il nostro evento all'interno di Fare Conti con l'Ambiente Ravenna 2016, in quanto riteniamo che portare dei progetti importanti siano comunque in linea con quelli della finalità della manifestazione. Quest'anno siamo presenti qui al Mar con un'iniziativa di presentazione di start-up e pitch di idee di nuovi business, in quanto riteniamo che comunque presentare delle idee di innovazione legate a dei temi così importanti come la sostenibilità ambientale, ma anche la cura della persona, il benessere delle persone o anche il recupero e il riciclo dei rifiuti attraverso dei nuovi elettrodomestici possa essere una risposta concreta sia per risolvere i problemi economici, sia per creare nuove opportunità di lavoro e di imprenditoria.